L'Expo Spa contiene 140 padiglioni di paese, stanno crescendo rapidamente di numero. Tra questi padiglioni, uno è il Padiglione Italia, che ha il compito di rappresentare il nostro paese. Scopo del Padiglione Italia è rappresentare al meglio il paese in un contesto in cui, questo è significativo sia per il turismo, sono attesi più di 20 milioni di visitatori, quindi la più grande occasione per il turismo italiano sia per l'industria italiana che ha l'occasione di far conoscere la propria gamma di prodotti agroalimentari ed energetici perché lo svolgere è energia sostenibile e nutrire il pianeta. Quindi su entrambi questi versanti l'industria e l'agroindustria italiana è in grado di dire la sua, quando noi dobbiamo fare del nostro meglio per rappresentarlo.